Ciao sono Duke, siamo ancora qui sul server multiplayer di NGI, ci eravamo lasciati dopo il video sulla fabbrica della canna da zucchero, vi avevo scritto che in un altro video vi avrei spiegato per quale motivo ci serve così tanta canna da zucchero, un oggetto che normalmente non si usa così tanto spesso. Ebbene questa ci serve per un drill, in sostanza è un trapano che serve per scavare in modo più veloce, questo è un plugin di Bookit scritto sempre da Piddu che è lo stesso autore della fabbrica che abbiamo visto e nell'attore nel senso che l'ha proprio programmato lui. Per utilizzarlo è necessario innanzitutto la versione server di minecraft, quindi non potete utilizzarlo sul vostro computer in single player. Inoltre è necessario avere Bookit installato ovviamente sul server perché essendo non plugin non può funzionare senza. Poi per mission perché non tutti potranno usare questa drill ma servirà appunto che ti venga dato il permesso di essere attivati e questo serve per fare in modo che non vengano distrutte magari zone protette con questo drill, con questo trapano. Ora, dovrei aver detto tutto, si? Ah dimenticavo, la canna da zucchero è stata scelta anche perché ricresce, ricresce velocemente e quindi si riesce insomma a raccogliere abbastanza in fretta ad averne una buona quantità. Adesso andiamo a vedere Piddu che ci fa vedere come si costruisce uno di questi drill. Vi anticipo già che ne esistono i due tipi, quello con la punta di ferro che consumerà per ogni blocco distrutto due unità di canna da zucchero e quello con la punta di diamante che ne consuma la metà, quindi solo uno. Adesso andiamo a vedere Piddu che costruisce un drill. Mette la punta di diamante sopra una normalissima fornace e avete visto che ha messo dentro della canna da zucchero. Che è appunto il combustibile, quello che serve per far funzionare il drill. Ora attacca una leva che lo attiva e vediamo che sta scavando, semplicemente attivando la leva scava. In questo modo si fa molto molto più in fretta a scavare, pur non andando a fare un cambiamento Game Breaker nel gioco, perché si potrebbe fare un plugin che fa sparire una zona di mille per mille di terra, ma non avrebbe più senso poi nel gioco. Invece questo ha comunque un senso, permette di scavare più velocemente, però è anche necessario impegnarsi per trovare i diamanti per fare la punta o il ferro se vogliamo la versione meno buona e poi andare a procurarci la canna da zucchero. Ed è per questo che noi quindi abbiamo fatto quella fabbrica, anzi noi che P2 ha fatto quella fabbrica, che così crea tutto il materiale che ci serve. Per qua vedete sotto ho messo la canna da zucchero, sopra niente e finché c'è canna da zucchero ne possiamo andare a scavare. Quando abbiamo finito, siamo arrivati in cima, bisognerà poi spostare il drill, questo trapano, a fianco. In realtà possiamo farne anche più di uno, perché possiamo mettere l'uno in parte o l'altro, collegarli tutti alla stessa leva, scusate, e in questo modo scaviamo magari tutta una parete andando ad agire semplicemente sulla leva. Ecco, ora P2 ci sta facendo vedere come scaviamo più blocchi contemporaneamente, con tanti drill e si va a scavare fino in cima molto velocemente. Così abbiamo scavato una grande porzione di suolo. Dimenticavo di dire che quando un drill scava un blocco lo sputa fuori da davanti, quindi non so se sono riuscito a farvi vedere che appunto uscivano qua da davanti i blocchi. Eccolo lì. Quindi quello che scava ci viene portato comodamente a livello del terreno. E noi possiamo raccoglierlo. L'ultima cosa da mostrare è che guardate, P2 sta rompendo solamente la punta di diamante, ma semplicemente rompendo la punta di diamante viene rimossa anche la fornace. In questo modo si fa prima, è molto più veloce, a spostare tutto il drill per poi riposizionarlo in un altro punto che vogliamo scavare. La prima versione non aveva questa possibilità, bisognava stargli a distruggere la fornace e saprete che ci vuole un po' anche con un piccone di diamante per distruggere una fornace. E quando le drill sono tante, magari 10 o 20, messe uno a fianco all'altro, ci voleva davvero troppo tempo per spostare tutto. E quindi è stata fatta questa cosa, P2 ha deciso di fare in modo che quando si distrugge la punta, viene rimossa anche la fornace, per facilitare ancora di più il lavoro. Quindi tutto qui. Questa è la motivazione per cui ci serviva la canna da zucchero. E questa è tutta una zona scavata con questo drill. P2 ha calcolato che con 8 drill si risparmia circa il 40% del tempo rispetto allo scavare a mano. E il tempo risparmiato aumenta proporzionalmente all'aumentare delle drill usate. Quindi ad esempio se noi utilizziamo una sola drill, fra il piantare la canna da zucchero, raccoglierla, portarla alla drill e utilizzarla, ci vuole addirittura più tempo che scavando quella stessa colonna a mano. Però appunto utilizzando più drill il tempo risparmiato va sempre ad aumentare ed è qui che sta la forza di questo plugin. Che è possibile scavare grandi zone una volta che abbiamo raccolto i materiali necessari per fare un buon numero di drill e risparmieremo sempre più tempo. Ora vi saluto e vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!